Mercoledì è arrivato il primo gruppo di richiedenti asilo nel centro costruito dall'Italia in Albania nell'ottica di un'esternalizzazione della gestione del flusso migratorio. Il piano italiano ha già subito una battuta d'arresto a causa di una sentenza del Tribunale di Roma che ha deciso che i primi migranti trasferiti devono tornare in Italia perché i loro paesi di origine non sono considerati sicuri. Intanto Euronews Albania ha chiesto agli abitanti di Tirana cosa ne pensano. Gli albanesi sono divisi sull'idea. Molti pensano che sia pericoloso che il paese diventi un hub migratorio per l'Europa. Il rientro in Italia dei primi 12 migranti trasferiti nel centro è previsto per sabato, ma il governo italiano ha dichiarato che il piano andrà avanti.